Musica Decimata la holding dello spaccio, 110 arresti sono stati seguiti nell'ambito di un'operazione contro il clan di Lauro catturato anche l'ultimo dei figli del boss Paolo alias Ciruzzo Milionario detenuto da 8 anni, Raffaele di Lauro, 19enne, è stato arrestato su una nave da crociera vicina alle coste siciliane era con la fidanzata a cui aveva regalato un viaggio da 10.000 euro Il crollo di un albero in Vianiello Falcone che ha provocato la morte di una donna avvisi di garanzia nei confronti di due giardinieri l'accusa di omicidio colposo e spunta un retroscena, il pino secolare era stato appena potato 4 volte negli ultimi 13 anni Il capogruppo del PDL al Consiglio Comunale di Napoli, Marco Manzueto chiede che si apra una serie a riflessione alla luce della bruciante sconfitta registrata anche in campagna a seguito delle amministrative nel mirino i vertici regionali e locali del partito Iguain più soldi è l'ultima pensata di Florentino Perez per convincere De Laurentiis a cedergli i Cavani Il patron del Real Madrid potrebbe infatti non concludere l'affare con la Juventus per il bomber argentino ma il club azzurro non cede, per il Matador bisogna versare per intero i 63 milioni della clausola rescissoria Buon pomeriggio per ritrovati a un nuovo appuntamento con la nostra informazione di metà giornata Tanta cronaca, l'avete sentito dai titoli e si ritorna un'altra volta a parlare di quello che è stato definito in tanti modi per mercato della droga un vero e proprio centro commerciale degli stupefacenti e di chi la gestisce, capi, dirigenti, operatori di una holding che fa affari da sempre nonostante le indagini della procura, le retate, gli arresti a centinaia, a migliaia negli ultimi dieci anni nonostante le guerre sanguinari che hanno fatto calcolare centinaia di morti ammazzati negli ultimi dodici anni da quando è cominciata la cosiddetta e famigerata faida di Scampia che ancora si trascina Parliamo del clan di Lauro, un nome sempre potente nonostante le sconfitte patite ad opera di diversi cartelli scissionisti girati nonostante le tante operazioni che hanno portato a far registrare diversi arresti 110 i provvedimenti restrittivi eseguiti all'alba di oggi è stato scoperto ancora un nuovo modus operandi nella compravendita e nel traffico degli stupefacenti è stato arrestato anche l'ultimo dei figli del padre padrino della Cosca ovvero parliamo di Raffaele Di Lauro tutti i dettagli nel servizio di Marcello Curzio sono 110 le misure cautelari emesse dal GIP di Napoli raffidate per l'esecuzione ai carabinieri nell'ambito di un'operazione contro il clan Di Lauro protagonista della prima faida di Scampia una di queste riguarda uno dei figli del boss Paolo meglio conosciuto come Ciruzio Milonario detenuto da tempo Raffaele Di Lauro, 19 anni, è stato arrestato su una nave da crociera vicino alle coste siciliane mentre era in vacanza con la finanzata a cui aveva fatto il regalo di un viaggio da 10.000 euro per il compleanno i reati che gli sono contestati li avrebbe commessi da minorenne nelle ordinanze le accuse contestate sono associazioni di tipo mafioso traffico internazionale di droga, tentato omicidio, detenzione di armi aggravati da finalità mafiose le indagini delegate ai militari del ROS e del comando provinciale di Napoli si incentrano soprattutto sul traffico di cocaina dalla Spagna per alimentare le piazze di spaccio dell'area nord di Napoli il sistema architettato dal clan di Lauro per gestire la vendita di droga all'interno del rione dei fiori il cosiddetto terzo mondo a secondigliano prevedeva l'alternarsi di vere e proprie squadrette di spacciatori in grado di assicurare la vendita anche per 24 ore consecutive nulla era lasciato al caso ogni squadretta faceva capo a un referente questi che doveva provvedere a consegnare gli illeciti proventi giornalieri agli uomini di fiducia del clan in particolare gli inquirenti hanno ricostruito anche le sequenze con cui avveniva il narcotraffico lunghe code di auto i cui occupanti erano in attesa di acquistare droga sono stati immortalati nei servizi o di video e riprese effettuati nell'ambito dell'operazione contro le piazze di spaccio secondo quando evidenzia la direzione distrittuale antimafia di Napoli le persone in auto potevano accedere all'acquisto della droga dopo essere stati accuratamente controllati dai ragazzi del clan in poco più di un anno l'organizzazione malavitosa avrebbe incassato complessivamente 4 milioni e mezzo di euro rilevanti però sono stati anche i costi di gestione sostenuti dall'organizzazione in questo stesso periodo considerato che il clan avrebbe speso oltre 4 milioni di euro suddivisi in acquisti di droga, in pagamenti degli onorari agli avvocati in pagamenti delle settimane agli affiliati liberi al clan o alle famiglie di quelli detenuti ricavando perciò nel periodo in esame utili netti soltanto per circa 548 mila euro il sistema di tenuta contabile scogitato prevedeva una sorta di rendicontazione settimanale delle vendite di droga allo scopo evidente, sottolineano sempre alla DDA, di rendere più agevole il controllo capillare da parte degli uomini di fiducia di Marco Di Lauro arrestati anche favoreggiatori dell'attuale capo del clan Marco protagonista della nuova faida di Scampia in manette è finito anche un vigile urbano che era soldo al clan per 200 euro a settimana avrebbe svelato alla cosca che i carabinieri avevano installato due telecamere per riprendere le fasi dello spaccio insomma quando parliamo di holding sicuramente non ci distanziamo di molto rispetto alla realtà un clan, una cosca, un cartello gestito proprio come un'azienda per certi versi meglio di un'azienda che fattura ancora tantissimo a dispetto della crisi che riesce ad arruolare tanti tantissimi ragazzi nonostante gli arresti si rigerano sempre queste realtà, queste holding criminali e poi ci si domanda per quale ragione è così facile da parte di queste persone arruolare ragazzi quando poi dall'altra parte il vero Stato è quello che non offre delle valide alternative abbiamo sentito ovviamente il titolo principale tra i titoli c'è anche quello che fa riferimento al figlio l'ultimo figlio, anagraficamente parlando di Ciruzzo Milionario Paolo Di Lauro, una dinastia praticamente quasi tutta in manette resta fuori soltanto Marco che è considerato il reggente quest'ultimo ovvero Raffaele Di Lauro anche aveva belle età da padrino nonostante la giovanissima età l'hanno preso in crociera, una crociera che ha offerto un regalo da 10.000 euro che ha offerto alla sua fidanzata per il compleanno vediamo l'ultimo della dinastia dei milionari era uno che a dispetto dell'esistenza da recluso del padre padrino la vita se la sapeva godere a soli 19 anni Raffaele Di Lauro alla fidanzata per il compleanno aveva fatto dono di una crociera i carabinieri lo hanno bloccato su una nave all'altezza di Messina di Raffaele le cronache sanno ben poco anche perché contiano la mano nel 2004 quando esplosa la prima faida di Scampia e dai suoi decennali affari oscuri è emersa la figura di Paolo Di Lauro in arte Ciruzzo Milionario Raffaele aveva appena nove anni e il padre, latitante a quei tempi non lo vedeva già da un pezzo, forse da anni come ha cominciato a vedere sempre più di rado i suoi fratelli che nel frattempo hanno impugnato le ridini del più potente cartello malavitoso di quegli anni a Napoli un clan cresciuto all'ombra di un capo attento cauto di scuola mafiosa vicino agli affiliati di primo piano di Cosa Nostra Paolo Di Lauro è un provenzano in terra di Secondigliano uno che predilige gli affari alle stragi le alleanze alle guerre uno che disegna la sua zona di dominio e la divide pacificamente con altri clan che lascia agli altri gruppi una certa autonomia una camorra federalista tanto per intenderci un equilibrio che si sfalda quando il milionario prepara la successione mettendo in secondo piano i senatori del clan e affidando lo scettro ai figli è la scintilla della faida una guerra da 58 morti ammazzati in un semestre di sangue a cavallo tra il 2004 e il 2005 le redini passano ai primi due figli in particolare a Vincenzo che è uno dei primi arrestati nelle retate che si succedono durante le indagini sulla faida il capo a quel punto è il meno carismatico è il più impreparato della dinastia a Cosimo, anzi Cosimino uno che ama le discoteche, le belle donne, le auto di lusso lo arresteranno proprio nel cuore della faida la sconfitta dei di Lauro decretata dagli scissionisti in molti là addebitano proprio alla gestione fallimentare di Cosimo il potere resta agli altri due fratelli maggiorenni Marco e Ciro il primo era responsabile della sorveglianza armata del Rione Marco reclutava personalmente le sentinelle provvedeva a esaminare e a vigilare sul loro lavoro Ciro invece era il contabile responsabile economico quello che divideva gli introiti e portava i conti in libertà oggi resta solo Marco la titante ritenuto il vero boss del clan che ancora porta il nome della famiglia anche Raffaele in galera è il più piccolo lo descrivono come uno che il suo potere economico ama ostentarlo come faceva Cosimo il fratello uscito sconfitto parliamo ancora di camorra di racket un ordigno artigianale esploso la scorsa notte davanti al bar San Benzana al corso Garibaldi a Portici il bar si trova tra l'altro a pochi metri dalla sezione staccata del tribunale la bomba carta da quanto si apprende è stata collocata e non lanciata un elemento che avvalora la tesi dell'atto compiuto a scopo intimidatorio l'obiettivo era quindi secondo gli inquirenti proprio il bar e non la sede del tribunale la deflagrazione ha danneggiato la sala cinesca e la vetrata interna del locale frammenti di vetro sono finiti sul bancone e sui tavoli presenti all'interno non ci sono feriti l'atto secondo gli investigatori è stato compiuto a scopo intimidatorio da parte di un'organizzazione dedita al racket organizzato proprio nel comune vesuviano e sette misure cautelari emesse dal GIP del tribunale di Salerno su richiesta della locale direzione distrittuale antimafia sono state eseguite questa mattina dai carabinieri del reparto operativo di Salerno a Vallo della Lucania Capaccio, Scalo e Marano di Napoli le sette persone indagate sono ritenute responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione dal traffico di sostanze stupefacenti del tipo di cocaina hashish e marijuana primi avvisi di garanzia emessi nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Cristina a Longi la donna di 44 anni rimasta schiacciata da un albero caduto ieri mattina in via Aniello Falcone a Napoli mentre era alla guida della sua auto in calcio ai provvedimenti l'accusa di omicidio colposo l'albero caduto lunedì scorso in via Aniello Falcone a Napoli era stato potato quattro volte negli ultimi 13 anni la prima nel 2000 la seconda nel 2007 la terza nel 2009 la quarta nell'aprile del 2010 l'ultima verifica effettuata dal personale del comune di Napoli risale allo scorso mese di aprile quando secondo quando sta emergendo dalle indagini sulla morte di Cristina Longi uccisa dopo il crollo del pino sulla sua automobile non sarebbe stata segnalata alla necessità di un intervento immediato tutte circostanze finite ora all'attenzione del PM Giovanni Corona che con il procuratore aggiunto Alfonso Davino coordina l'inchiesta sulla tragedia un episodio assurdo che ha suscitato grande dolore e cordoglio in tutta la città e che apre interrogativi ai quali gli inquirenti intendono provare a dare una risposta quanto prima il fascicolo è aperto con l'ipotesi di omicidio colposo oggi potrebbero partire i primi avvisi di garanzia almeno un paio che rappresentano un atto dovuto imposto dalla legge in vista dell'autopsia disposta dalla procura allo scopo di fare piena luce sulle cause della morte della donna l'impatto tra il tronco e la vertura si è verificato dieci minuti prima di mezzogiorno l'esame dovrà chiarire se la donna abbia perso la vita sul colpo tesi per la quale in questa primissima fase sembrano propendere gli inquirenti o se al contrario siano trascorsi alcuni minuti come riferito dai primi soccorritori l'altro aspetto centrale dell'indagine riguarda le cause che hanno determinato il crollo dell'albero il PM ha affidato a un agronomo l'incarico di fare chiarezza su questo aspetto che sarà probabilmente determinante ai fini della ricostruzione dell'intera vicenda l'esperto ha effettuato ieri un primo sopralluogo dal quale è emerso che almeno altri due alberi della zona un pino e un cedro potrebbero creare problemi di sicurezza dopo la tragedia comunque l'area è stata delimitata proprio per evitare ulteriori rischi il PM Corona ha chiesto ai carabinieri e ai vigili del fuoco di acquisire la documentazione presso il comune e gli altri uffici interessati l'esame degli atti servirà per verificare se la pianta sia stata sottoposta ad altri interventi oltre a G4 rilevati e soprattutto per ricostruire con esattezza quanto è accaduto negli ultimi mesi quando alcuni residenti di Via Nillo Falcone sostengono di aver notato con preoccupazione che l'albero si stava piegando in maniera innaturale ancora un fatto di cronaca attorno al quale c'è molto mistero nuovo di 30 anni Valerio Di Polito in passato già noto alle forze dell'ordine è stato ferito in modalità al vaglio della polizia nella notte a San Giuseppe Vesoviano è accaduto l'episodio Di Polito si è presentato alla clinica Santa Lucia ed è stato successivamente trasferito all'ospedale di Nola ha spiegato di aver udito una esplosione e poi di aver scoperto di essere rimasto ferito ad un fianco con un colpo di pistola la sua versione è ora al vaglio degli agenti del commissariato di San Giuseppe Vesoviano di Polito in prognosi riservata ma non è considerato in pericolo di vita la città di Ercolano ancora sotto shock dopo la sorda morte di Antonio Formicola lo ricordiamo due giorni fa il fioraio sessantenne che si è ucciso da prima ha raggiunto il balcone dell'ufficio del sindaco quindi al municipio di Ercolano si è dato fuoco si è legato prima si era legato una corda un cappio al collo poi si è lanciato la corda si è spezzata dopo è morto per le gravi ustioni riportate chiedeva un permesso un permesso per la sosta per poter tenere libero l'ingresso del suo negozio quindi più visibile e data la crisi era indispensabile per lui per poter continuare a sopravvivere i commercianti hanno chiuso le sara cinesche in segno di protesta per tutta la giornata di ieri adesso la città di Ercolano chiede le dimissioni del sindaco e della giunta vediamo il servizio una città incredula è sotto shock per la morte di Antonio Formicola con molti tesi e scossi tra amici e conoscenti poca voglia di commentare così è Ercolano a due giorni dalla morte del fioraio che da due anni aspettava un permesso per la sua attività e che per questo si è dato fuoco e si è ucciso lanciandosi dal balcone dell'ufficio del sindaco sulle vetrate del suo negozio l'antica violetta al corso resina dove le luci fioche illuminano fiori e piante in esposizione qualcuno ha posto un foglietto scritto a penna ciao Antonio uomo dignitoso il tuo gesto non rimarrà nel buio sei e rimani nei nostri cuori ciao grande uomo riposa in pace anche la via che conduce al municipio è meno caotica del solito i negozianti tranne qualche rara eccezione non hanno alzato ieri le saracinesche un foglio ne ha spiegato i motivi l'attività resterà chiusa per solidarietà nei confronti del nostro amico e collega Antonio Formicola per la sua tragica scomparsa all'esterno del municipio presidiato senza sosta dalle forze dell'ordine è stato affisso un altro lenzuolo bianco con su scritto il tuo coraggio è la nostra forza che fa ombra ai capannelli di residenti amici o semplici conoscenti di Formicola proprio lì davanti all'ingresso del municipio ripulito il selciato dai segni della tragedia sono stati apposti cinque lumini la notte una trentina di cittadini in presidio ha recitato una preghiera e per l'intera giornata di ieri un gruppo di donne e uomini ha stazionato con sedia e un tavolino raccogliendo le firme per chiedere le dimissioni del sindaco Vincenzo Strazzullo anche ieri assente in sede raggiunto al telefono dice ho incontrato i tre figli molto provati per la perdita di un padre punto di riferimento un uomo che conoscevo da ragazzo e che da sempre ha vestito la divisa del lavoro in occasione dei funerali proclamerò lutto cittadino anche il presidente del consiglio comunale Mario Oliviero esprime vicinanza e cordoglio alla famiglia per il tragico evento consumatosi in un clima di disagio economico sociale che attanaglia l'Italia intera nonché la nostra comunità dice lo ricorda come un uomo educato e professionale preciso nell'allestimento degli addobbi floreali la sua specialità Barco Ricci giovane sacerdote di Santa Maria della Consolazione oggi alle 20 celebrerà una preghiera in memoria e sempre oggi è attesa l'autopsia sul corpo di Formicola il dramma lavoro che ancora si consuma sempre a Dercolano restiamo quattro operai della SMA Campania SPA che opera nella prevenzione degli incendi boschivi e nei servizi al territorio sono saliti sul tetto della settecentesca villa Matarazzo per protestare per la mancata erogazione degli stipendi la polizia sta cercando di farli desistere nel giardino antistante la villa che è disabitata una trentina di compagni di lavoro stanno effettuando un presidio uno dei quattro operai anche brandito una tannica di benzina poi successivamente riposta all'interno della villa parliamo di politica c'è area di attenzione all'interno del popolo della libertà alla luce del risultato fallimentare e la campagna non è stata da meno alle ultime amministrative chiede una seria riflessione soprattutto per quanto riguarda i vertici regionali e locali del partito il capogruppo del PDL in consiglio comunale a Napoli Marco Manso Eito il servizio elezioni amministrative il PDL napoletano analizza la debacle di domenica e lunedì scorso urge un profondo rinnovamento in provincia di Napoli quando afferma senza peli sulla lingua il capogruppo del PDL al consiglio comunale di Napoli Marco Manzueto in un partito che si rispetti i risultati fortemente negativi del PDL purtroppo solo in provincia di Napoli dovrebbero indurre a una profonda riflessione sulle scelte sulle alleanze a macchia di leopardo con l'Udc operate dal coordinamento provinciale questa sconfitta parita dal PDL nelle importanti amministrazioni di Castellamare a Fragola a Merito Qualiano Somma Vessuviano mina purtroppo anche la stabilità del governo Caldoro dice Manzueto a meno che questo campanello d'allarme non induga un profondo rinnovamento della classe dirigente in previsione dei futuri appuntamenti elettorali l'analisi del voto sulle amministrative da parte del coordinatore regionale Francesco Nittonio Palma se è condivisibile da un lato nella sua impostazione più generale dall'altro apre a motivi di riflessione che non possono essere sottaciuti in particolare per quanto riguarda i risultati del PDL nelle province di Napoli ed Avelline quando afferma a sua volta il consigliere regionale del PDL Luciana Scalzi è dunque giusto allora come ha suggerito Palma partire da un rinnovamento della classe dirigente a partire dai coordinamenti locali e bisogna interrogarsi sul dato elettorale del PDL dove a Avellino con quel 7% non ha fatto nemmeno giungere i candidati al ballottaggio afferma a sua volta senza nascondere una dose di polemica l'altra consigliere regionale del PDL di Irpina Antonia Ruggiero se ciò è chiaro un indicatore di malessere locale accorgo con determinazione l'invito al riflettere occorre quindi dice la Ruggiero un serio rinnovamento del partito da questo dato che bisogna ripartire una brutta vicenda è accaduta a Castellammare di Stabbia dove la polizia ha sventato un tentativo di aggressione fisica nei confronti dell'ex sindaco Luigi Bobbio sindaco usciente il magistrato era a Castellammare nella centrale piazza della ferrovia sulle scale della stazione quando un gruppo di 4 persone 2 uomini e 2 donne gli sono andati incontro minacciandolo dapprima verbalmente dalle parole stavano passando alle mani mentre si trovava a passare una volante della polizia che è prontamente intervenuta e fermato i due uomini che sono stati condotti in commissariato dove Bobbio ha sporto denuncia nei due anni da primo cittadino a Castellammare di Stabbia Bobbio ha subito più volte minacce con invio di proiettili a casa e sotto forma di messaggi via web venerdì scorso in chiusura della campagna elettorale per il rinnovo dell'amministrazione cittadina l'ex sindaco tra l'altro candidato ha pubblicamente denunciato i legami di parentela con i boss dei clan locali esistenti tra molti consiglieri comunali che si sono affermati nelle liste civiche che appoggiavano il candidato del centrodestra un tavolo che verrà convocato in breve tempo per definire un progetto strategico e operativo teso a trasformare la reggia di Caserta da monumento simbolo del degrado e dell'incuria a luogo di eccellenza del patrimonio artistico culturale e turistico italiano come ha detto il ministro per i beni culturali e per il turismo Massimo Brai con un'ipotesi di lavoro che al momento sembra prevalere quella di modificare il modello attuale di governance del palazzo Mambitelliano tipicamente pubblicistico con la creazione di una sovrintendenza speciale strutturata con una società privata sul modello della reggia di Venaria gestita già da un consorzio con consiglio di amministrazione formato da soggetti pubblici e privati e soprattutto con una sua autonomia finanziaria un arco trafficante internazionale napoletano di 44 anni Sergio Cavuoti latitante da oltre un anno e mezzo è stato arrestato ieri sera dalla polizia Castelvolturno la polizia l'ho rintracciato e bloccato in una strada ai confini tra i quartieri Bagnoli e fuori grotta a Napoli l'uomo sfuggì all'arresto nell'ambito di un blitz freccia sarda della polizia di Oristano che portò in carcere 23 persone tra italiani e nigeriani torniamo a parlare di lavoro di un autunno caldo prospettato piuttosto in anticipo il terreno è quello della Fiat di Pomigliano d'Arco davanti ai cancelli del Giambattista Vico ieri si sono incontrate diverse sigle sindacali gli esponenti dello Sly Cobas avevano preannunciato gli scioperi per tutti i sabato lavorativi che si sarebbero svolti nello stabilimento Fiat di Pomigliano esattamente tre anni fa subito dopo l'accordo tra Lingotto e sindacati per l'avvio della produzione della Panda e a pochi giorni dal primo dei due sabato lavorativi concordati dall'azienda Confim, Wilm, Fismic e OGL per far fronte a un isolato picco produttivo gli esponenti territoriale nazionali del sindacato di base hanno mantenuto fede a quella promessa serrata il 15 e il 22 giugno una protesta spiegano contro ogni forma di comando al lavoro straordinario sia all'interno delle giornate lavorative o festive nonché delle prestazioni a recupero nei previsti giorni di riposo quali il sabato proclamando lo sciopero nello stabilimento Fiat di Pomigliano ed in tutte le aziende collegate per il 15 ed il 22 giugno nella stessa nota la coordinatrice nazionale del sindacato di base Mara Malavenda insieme con il coordinatore provinciale Antonio Tammaro e l'ex RSU del Vico Luigi Aprea ha diffidato il lingotto dal frapporre qualsiasi ostacolo limitativo o sanzionatorio delle libertà di sciopero e sindacali nei confronti dei lavoratori preannunciando azioni giudiziali a tutela degli operai un sabato quindi che si preannuncia come una giornata di mobilitazione con Sly Cobas FIOM comitato di lotta di cassi integrati donne del comitato mogli degli operai studenti ed esponenti di partiti politici che si sono dati appuntamento ai cancelli per cercare di convincere le tute blu attualmente impiegate nello stabilimento a protestare con loro per il rientro di tutti i cassi integrati in fabbrica e per il rilancio del polo logistico di Nola e dell'ex Ergom di Napoli rientri quelli dei circa 1400 operai ancora in CIG dello stabilimento Fiat che secondo il lingotto e dei sindacati firmatari sono fortemente condizionati dalla crisi che ha investito il settore che non consentirebbe maggiori occupati tanto che per far fronte al picco produttivo sono stati disposti due sabato di recupero e di ritorno al lavoro di una quindicina di tute blu da impiegare nell'area A quella riservata alla diretta produzione della Panda secondo il leader della FIOM Maurizio Landini che ha commentato il piano di ristrutturazione dell'Indesit la crisi non deve però essere usata per ricattare le persone per peggiorare le condizioni di chi lavora la mobilitazione di sabato infine potrebbe decretare l'inizio di una nuova battaglia per il diritto al lavoro anche se rischia di diventare una guerra tra operai come sostiene Gerardo Giannone membro del direttivo provinciale partenopeo della FIM Operatori sociali in sciopero della fame davanti al comune di Napoli per chiedere in rappresentanza dei 6.000 operatori che assistono oltre 500 minori il pagamento di oltre 4 anni di arretrati alcuni degli operatori hanno trascorso la notte in sacchia pelo sul piazzale antistante Palazzo San Giacomo garantiamo un credito di oltre 60 milioni di euro ed alcuni responsabili delle case famiglia pur di garantire la continuità di questo servizio primario rivolto a ragazzi provenienti da famiglie in realtà rischio si sono esposti anche personalmente con le banche le quali ora però ci chiedono di rientrare dal debito e quanto ha dichiarato un portavoce dei manifestanti in sella casco di protezione divisa per dare assistenza ai turisti e garantire sicurezza a tutti nel centro storico di Napoli arrivano i vigili urbani in bicicletta elettronica da oggi il reparto della polizia municipale nella zona avvocata inizierà a presidiare i decumani e dal lunedì al sabato percorreranno un tragitto molto seguito dai turisti nel weekend invece il territorio sarà controllato da auto e moto per assicurarsi che tutto fili liscio nella movida della zona siamo qui non solo per ricordare ma per rinnovare lo spirito dell'antica morra dell'antimafia della legalità vera e non di quella formalista e burocrate queste le parole del sindaco di Napoli Luigi De Magistris nel giorno del sedicesimo anniversario della morte di Silvia Ruotolo noi avevamo un dovere quello di non far dimenticare il nome di mia madre di non permettere a nessuno di girarsi dall'altra parte lo ha detto Alessandra Clemente figlia di Silvia Ruotolo e assessore alle politiche giovanili del comune di Napoli in occasione della celebrazione nei giardini di piazza medaglie d'oro a Napoli dell'anniversario dell'uccisione della madre vittima innocente della camorra con lei il padre Lorenzo Clemente il fratello Francesco i rappresentanti della fondazione Silvia Ruotolo alla celebrazione tra gli altri hanno partecipato anche il sindaco di Napoli Luigi De Magistris il vice presidente della giunta regionale Guido Trombetti il procuratore capo della Repubblica di Napoli Colangelo il questore Luigi Merolla il comandante dei carabinieri Marco Minicucci per anni abbiamo chiesto ad ogni persona di sentire questa storia come la propria una giornata che poi negli anni abbiamo voluto riempire di colore l'abbiamo voluta far diventare qualcosa che assomigliasse veramente a mamma mamma una donna straordinaria la cosa più bella era il suo sorriso un colore che però oggi non può esplodere perché esprimiamo profondamente la vicinanza a un'altra famiglia la famiglia di un'altra donna che tragicamente è scomparsa ieri ricordare non solo per avere un giorno di celebrazione all'anno ma per rinnovare lo spirito dell'antica morra dell'antimafia della legalità quella vera quella parolaia burocrata e formalista ma quella fatta veramente di mani che lavorano e che agiscono ogni giorno per dare dignità alla nostra città quindi siamo qui per ricordare per agire e adesso parliamo di sport ma prima ci concediamo una brevissima pausa restate con noi eccoci in studio con il calcio allora Cavani segna con la sua Uruguay ma non fa sognare più i tifosi del Napoli bensì altri tifosi quelli dei Blancos quelli del Real Madrid proprio il patron della squadra spagnola del club iberico ha avanzato un'altra offerta che potrebbe essere formalizzata nelle prossime ore ma De Laurentiis non cede vediamo Edinson Cavani torna al gol e regala un sogno all'Uruguay quello di poter qualificarsi ai mondiali in Brasile in uno degli incontri giocati ieri nel girone sudamericano la nazionale di Montevideo è riuscita a battere in trasferta il Venezuela 1-0 proprio grazie ad una bella rete dell'attaccante del Napoli ma Napoli dal Matador non vuole gol ma una risposta dentro o fuori in attesa di novità su Cavani che sicuramente tarderanno ad arrivare il club azzurro intanto si concentra sull'organizzazione della prossima stagione una delegazione della società formata dal responsabile dell'area comunicazione Nicola Lombardo e dal direttore processi amministrativi e compliance Antonio Saracino si è recata a Di Maro in Val di Sole per mettere a punto i dettagli del ritiro precampionato il Napoli sarà ospite in Trentino dal 13 al 26 luglio una fugace apparizione a Di Maro avrebbe fatto anche Fabio Pecchia il cui ingaggio come vice di Rafa Benitez dovrebbe essere annunciato ufficialmente entro breve tempo la delegazione napoletana è stata accolta a Di Maro dal sindaco Romedio Menghini il quale ha guidato Lombardo e Saracino in una visita prima al centro sportivo di Carciato poi all'hotel che per il terzo anno consecutivo ospiterà il Napoli mentre la società organizza la logistica continuano a fioccare indiscrezioni sui movimenti di mercato gli ultimi spifferi in ordine di tempo vengono da Madrid Florentino Perez avrebbe negato Higuain alla Juventus perché spera di inserirlo nella trattativa per Cavani la società spagnola non è in grado di versare 63 milioni in contanti della clausola rescissoria del Matador nelle casse del Napoli e allora cerca di trovare l'elemento giusto che possa essere gradito a Benitez per abbassare la cifra in contanti a conguaglio dell'operazione ma la trattativa non si presenta facile sia perché il Real dà una valutazione dell'attaccante argentino di 30 milioni di euro che appare eccessiva sia perché De Laurentiis non sembra avere ripensamenti sul suo diktat chi vuole Cavani deve presentarsi con 63 milioni in contanti ed il gradimento del calciatore altrimenti non se ne fa niente altre indiscrezioni riferiscono di un interessamento sempre più forte del Napoli per il difensore slovacco del Liverpool Martin Skertel il quale nel ritiro della nazionale avrebbe chiesto informazioni a Mare Kamsik sulla città e sulla squadra in cui potrebbe trasferirsi a breve d'altronde il gradimento di Benitez per il possente centrale difensivo che ha avuto a lungo le sue dipendenze in Inghilterra è noto a tutti e questo è un affare che potrebbe effettivamente andare in porto forse anche a breve scadenza tornando all'attacco Simone Zaza la 21enne punta che quest'anno ha giocato nell'Ascoli ma che è di proprietà della Sampdoria potrebbe presto vestire la maglia azzurra ed è tutto con le ultime novità di mercato con 8 News ci ritroviamo puntuali stasera come sempre alle 19.30 grazie e buon pomeriggio e buon pomeriggio